adesso aspettiamo qui allora oggi è il giorno 10 quindi 10 di giugno quindi un mese meraviglioso un sole stupendo e dove siamo dove siamo san gregorio di catania l'atelier via colonna ladies and gentlemen supercate fantastico e allora qui cosa aspettiamo un po che si connettano un po di persone siamo in diretta facebook salutiamo giorgina poi mostreremo magari un capo uno solo non tanti perché cioè voglio dire qui c'è la collezione 2022 che strepitosa come che dire che cosa diciamo di questa meravigliosa collezione sempre meraviglioso qui vai vieni tu in ragazzi è uno stile meraviglioso ladies and gentlemen caterina caterina atelier via colonna san gregorio di catania e poi e poi e poi tutto fantastico tutto fantastico ragazze ci sono dei tessuti meravigliosi che sono rifiniti a regola d'arte è proprio l'eccellenza alta sartoria italiana proprio opere d'arte sartoriali fantastiche cioè proprio sono dei tessuti che veramente sono eccezionali poi c'è il floreale che è sempre un trionfo di un trionfo di micado di organza vual di organza tripla di sovrapposizioni floreali abiti scultura guarda qui c'è persino ci scrivono anche in arabo qui ormai siamo accettati viva saluti viva teresa viva mina qui quindi voglio dire cosa è il trionfo il trionfo assolutamente il trionfo dell'alta moda italiana cioè proprio realizzata col cuore per realizzare delle delle opere d'arte meravigliosi di copere d'arte tessili perché veramente quando le vedi ti trasmettono una grande emozione esatto floreale tessuti meravigliosi mantelli rouge di tutto di tutto allora abbiamo quindi l'atelier di riferimento per la provincia di catania e l'atelier via colonna qui a san gregorio di catania siamo proprio attaccati a catania esatto cinque minuti da catania appena uscito lì dall'autostrada tac subito c'è l'uscita cos'è con gli etnei cos'è si paesi etnei paesi etnei zap giri arrivi in un secondo qui da caterina e quindi poi la collezione arriverà verso settembre si esatto quindi da settembre siamo pronti con tutta la collezione e dopo di che faremo tranq show a raffica quando settembre ottobre novembre gennaio e febbraio quindi tranq show a raffica ciao stefano da terni quando gli fai vedere i stupendi vestiti infatti facciamo vedere uno che a te ne scegliamo uno adesso facciamo vedere uno di questi abiti uno che sceglie giuro non è nulla preparato sceglie cate buongiorno steve sempre bellissimo piacere guardarvi anche se ormai sono sposata da 38 anni va bene va bene d'accordo qua ragazze guardate qua guardate che meraviglia questa è un organza vual guardate vola leggerissima meraviglia poi abbiamo questa fascia drappeggiata alta questo tool questo è tutto un tool ricamato con applicazioni 3d uno sopra l'altro quindi i fiori sono tutti applicati sul tool è tutto manina un lavoro certosino ma poi senti la leggerezza e soprattutto guardiamo dietro cosa c'è una cascata una cascata floreale guardate adesso non so se riusciamo per la luce qua guardate una cascata di fiori ma che cos'è questa naturalmente quest'abito trovo lo troverete nella pelle via colonna guardate qua che roba è la ruce tutta quanta rifinita con tutto tutto esatto rifinito con lo sbiecchino di raso ragazzi ci siamo alla grande vedi che elena tosto dice wow wow e poi la leggerezza perché la terza dimensione di questi abiti oltre alla bellezza e la leggerezza sono abiti tutti in seta pura con le costruzioni di alto livello quindi sono veramente meravigliosi e leggerissimi da indossare quindi è veramente pura poesia bellissimo direi fantastico direi che ci siamo ci siamo alla grande ne facciamo vedere uno solo perché sennò poi qui si mette esatto si mette non spoileriamo troppo esatto come si suol dire qui partono vi piaciuto qui elena stupendo simona stupendo vai mara mai perché qui ci sono un sacco di persone che poi si connettono e quindi meraviglia fantastico stefania da dove ci seguite di bello saluto anna maria saluto stefania mara mai simona elena rosalba anna elena poi abbiamo ancora mara poi abbiamo stefania poi abbiamo francesca se un'altra anna maria annalisa maria messo quanta gente anna siamo seguitissimi direi fantastico allora io adesso salvo tutto allora vi aspettiamo qui con da caterina l'atelier via colonna a san gregorio di catania un bacio un abbraccio ciao ciao adesso salviamo poi anche su youtube magari questa qua è così facciamo mettiamo anche youtube da treviso ciao a tutti ciao 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 sardegna vedi che si scrivono ancora qua